Allora domani per la settimana regionale africana ci sarà un po' il culmine con la notte nera, musiche, danze e anche incontri. Siete pronti? Sì, siamo pronti, abbiamo quasi concluso tutto l'allestimento, vi aspettiamo ai Giardini del Pincio a partire dalle ore 17, dove appunto saranno allestiti sia i stand delle associazioni e sarà presente uno stand del mangiare etnico e italiano e anche con birra e cose da bere. Ci saranno ad allietarci sin dal pomeriggio musica, concerti e spettacoli, in particolar modo ci sarà il coro gospel, i crisi di jambè con delle percussioni africane e poi invece da partire dalle 9.30 ci saranno invece i gruppi musicali che ci faranno ballare, Sista Island e Navigators e poi i Rumba dei Bodas, che è il gruppo diciamo così un po' più atteso della serata che farà divertire e quindi invitiamo tutti, giovani e meno giovani, a partecipare a questo momento di festa in là ai Giardini del Pincio e sarà quindi appunto un momento di gioia e di festa. La musica è sempre una componente importante del continente africano, anche questa sera volendo c'è qualcosa di cui dilezzarsi le orecchie? Sì, questa sera è un appuntamento importante e speciale perché all'ore 21 alla Pinacoteca San Domenico ci sarà un concerto per l'Africa, si esibiranno 40 ragazzi della Gioacchino Orchestra, un'orchestra che è proprio costituita da studenti del conservatorio e faranno un repertorio di brani ricordando un po' l'America e anche quindi collegandosi un po' al discorso delle migrazioni. Un concerto bello, di ingresso gratuito, chiunque vorrà lasciare un'offerta per i nostri progetti sarà ben gradito, però è un'occasione per passare una serata piacevole in centro.